E in un attimo il ristorante più chic di Parigi si è trasformato in CANDANABOLI! Ma non è solo senso! Ma non è solo senso! L'amore è con lei! A un certo punto Gollini commette un grave errore e gli confessa che in casa c'è un ospite che dorme oramai da ore! C'è il suo presso, qui sta? Come se vuoi che dorme? Facciamo un scherzo! Uno scherzettino! Andiamo, andiamo, andiamo! Ma questi sono seri! Vi prego fermateli! Fermateli! Non ci credo! È scattato pure l'allarme antincendio! Uno di noi! Ecco Ulusevski! Uno di noi! Posso far finta di star bene ma mi mandi! Ma che momento è? Ora capisco che vuol dire averti a casa per un amico dire! Ma davvero? Non ci credo! Davvero hanno fatto venire la moglie dall'Italia! Dentro l'anima! Mi mandi! Mi mandi! Mi mandi! Avere un'altra donna va! Mi ingannerei! Dentro l'anima! Mi mandi! Mi mandi! Mi mandi! Mi mandi! Mi mandi! Grazie a tutti!